In questi mesi, con un gruppo di compagni e di compagni, in maniera trasparente, abbiamo fornito un contributo critico alla nostra Assemblea organizzativa ed abbiamo votato no alle proposte che ci sono state fornite in discussione. Perché anche se siamo d'accordo sulla razionalizzazione delle risorse, sullo spostamento del baricentro dell'iniziativa sindacale verso i luoghi di lavoro, andando ad immaginare non solo il trasferimento di risorse, ma cessione di sovranità negoziale nei confronti delle RSU e dei comitati degli iscritti, anche se siamo convinti che occorre un mix tra verticalità ed orizzontalità che di appunto più leve, più risorse ai territori, se vogliamo che un vero sindacato della rappresentanza e della rivendicazione non sia soverchiato da un semplice sindacato dei servizi o della risposta a domande individuali, anche se vogliamo questo, noi riteniamo che le proposte, seppure abbondantemente discusse, seppure interessanti su alcuni punti, non forniscano come dire una risposta, perché con tutta probabilità c'è ancora un approccio che pensiamo essere abbandonato solo ad aspetti di natura organizzativa e non politica. E non siamo d'accordo su come si è votato con le schede, non siamo d'accordo per la strozzatura di un dibattito che ha consegnato ad una commissione politica la decisione che rende impossibile anche il pronunciamento di delegate e delegati che sono presenti qui oggi e non è andata meglio in diversi luoghi. Non è un problema di carattere amministrativo quello che ha determinato in parte il distanguamento di tipo associativo per la nostra organizzazione sindacale. E pensiamo che per le prossime fasi, anche quando avremo definito ciò che sarà patrimonio del direttivo per le cose che decidiamo oggi e quello che invece sarà trasferito al congresso, il metodo migliore sia quello dell'allargamento e di una partecipazione più ampia delle delegate e dei delegati, ma anche dei luoghi di lavoro, su molte discussioni. Perché questo per noi è un grave problema che si traduce con grosse difficoltà nella pratica quotidiana di chi svolge attività sindacale. E voglio fare un esempio per essere più concreto. Io alla prossima tornata elettorale dell'elezione dell'RSU del pubblico impiego mi candiderò all'interno del mio ente. Sono un dipendente del Comune di Milano. È un ente con 14.000 dipendenti, molto importante per il pubblico impiego. Lo è anche per la nostra organizzazione sindacale perché abbiamo una grande tradizione che ci consegna anche un numero di associati elevatissimo. Siamo oltre 2.800 iscritti e anche quest'anno siamo riusciti a crescere. E io quando andrò in campagna elettorale parlerò del quadratino rosso, dirò anche di Maurizio Landini e delle importanti sfide che ci ha consegnato anche in una discussione quest'oggi. E lo farò con un profondo senso di appartenenza identitaria. E però trovo difficile poter dire alcune cose. Cioè ho ancora delle grosse difficoltà. Per esempio, per me è complicato poter parlare di una stagione di rinnovi contrattuali all'interno di un luogo di lavoro dove abbiamo dipendenti che hanno anche retribuzioni di 1.100-1.200 euro, che sono incardinate all'interno di quei servizi, di quella frontiera di cui si parlava, dove uno Stato riconosce i diritti di cittadinanza attraverso l'erogazione di prestazioni pubbliche. E davvero una difficoltà perché con quei miei colleghi siamo a ben 12 anni con un rinnovo di un contratto con soli 60 euro di aumento. E lì, Maurizio, non è che c'è il problema dell'IPCA. Cioè lì non è che non abbiamo applicato l'IPCA in 12 anni. Lì non abbiamo ottenuto riconoscimento perdendo quote di salario estremamente importanti. E non c'è scorciatoia di sorta. E allora se noi dobbiamo dire come muoverci per avere pratiche sindacali che siano agganciate ai reali bisogni di ogni luogo di lavoro, è ovvio che dobbiamo accorciare la distanza che esiste tra l'azione di rivendicazione che si produce dentro un luogo di lavoro ed un gruppo dirigente che rischia di attardarsi con posizionamenti che non sono quelli delle lavoratrici e dei lavoratori. E questa cosa ce la triscineremo anche per i prossimi mesi. E non va bene il modo con cui ragioniamo. Anche sta storia, la mobilitazione, il modo con cui abbiamo fatto discussione anche sui media sulla mobilitazione. Sembrava quasi che fosse un tabù. Quando il conflitto in questo Paese storicamente si è determinato per un esempio significativo della regolazione della vita democratica e attraverso il conflitto che noi riusciamo a contemperare le varie esigenze che si trovano in campo. E invece una stampa indegna ci ha costretto a fare un dibattito relativamente al fatto se fosse giusto scioperare nei luoghi di lavoro. E invece noi sappiamo che il conflitto agisce la democrazia. E i padroni alla GKN di Firenze, la Caterpillar di Ese, alla Pfizer di Catania stanno cercando di schiacciarci. E non c'è bisogno di scomodare Gallino per dire che il conflitto di classe esiste e lo stanno vincendo i datori di lavoro schiacciandoci. Noi dobbiamo muoverci da lì. E che fastidio aver trovato per mesi manifestanti Novax e dover difendere le sedi delle Camere del Lavoro, i fascisti dentro la sede in corso d'Italia e noi a trovare difficoltà e ad attendere di capire con quale sviluppo il ragionamento della CISL, piuttosto che anche di Bonomi di Confindustria, potessero accogliere un modo di esercitare realmente quello che è il ruolo delle organizzazioni sindacali e per noi che era appunto in quel momento lo sciopero. E sono vari motivi per cui dovremmo muoverci. Si è parlato del conflitto, dell'azione dei datori di lavoro, di 1.500 morti sui luoghi di lavoro ogni anno in una guerra che i datori di lavoro dichiarano contro il mondo del lavoro. E' la stagione straordinaria delle assunzioni nel pubblico impiego. Questa battaglia senza frontiera nei confronti del precariato che comunque esiste, che comunque noi dobbiamo registrare. 300.000 posti di lavoro persi negli ultimi 12 anni all'interno del pubblico impiego. Con quale strumento possiamo garantire i diritti di cittadinanza se esiste un disanguamento delle dotazioni organiche di questo tipo? E molto velocemente, su un punto e su una considerazione finale, noi Maurizio facciamo bene anche a verificare il grado, la quantità di malessero, le strutture che ci sono nello scenario politico e partitico di questo Paese. Difetti però che ahimè sono anche i nostri. E noi dovremmo contribuire ad una discussione vera che è la ricomposizione della sinistra politica all'interno di questo Paese, cercando di operare verso quel diaframma che si è creato tra azione sociale ed azione politica. Ma lo dobbiamo fare con una grande proposta di costruzione di un sindacato classista, operaista, che faccia dello strumento collettivo il principio d'elezione della propria iniziativa. E lo dobbiamo fare cercando di comprendere che noi siamo parte attiva di quella discussione contro le derive postideologiche e plebiscitarie che anche questa organizzazione sindacale rischia. E quindi concludo molto velocemente. Io penso che ci sia un problema anche per quanto riguarda la gestione della dialettica all'interno della nostra organizzazione sindacale. Noi dobbiamo costruire un'unità sindacale. Non possiamo pensare che l'unità sindacale sia solo quella con Cisle Will, perché abbiamo da dire tanto anche con quelle organizzazioni sindacali che si organizzano nella frontiera della logistica, dell'agroalimentare, che stanno protestando contro i padroni, che assoldano anche forze paramilitari per picchiare i delegati. Come è successo anche da Dilla, Blandrate, che è morto durante un picchetto. E lo dobbiamo fare veramente se vogliamo cambiare questa organizzazione. E abbiamo un problema anche su come gestiamo la dialettica all'interno della nostra organizzazione sindacale. Con l'assenza del pluralismo programmatico che ogni volta si manifesta quando abbiamo appuntamenti importanti. Troppe chiusure nei confronti di chi muove critica all'interno di questa organizzazione sindacale facendolo a vista aperto e mentre si organizza nei luoghi di lavoro, costruendo consenso intorno al quadratino rosso. Noi meritiamo maggiore attenzione quando poniamo la difficoltà che c'è nei luoghi di lavoro. E lo dobbiamo fare con un'organizzazione sindacale che, se vuole cambiare, deve curare i percorsi interni di costruzione del gruppo dirigente, che troppe volte non sono legate a quello che succede davvero nei luoghi di lavoro, ma rispettano invece soltanto le attenzioni verticistiche che ci sono dall'alto. Se abbiamo coraggio, se abbiamo forza e sappiamo il rispetto dei valori della nostra organizzazione sindacale, ce la possiamo fare a cambiare la CGL. Per i lavoratrici e i lavoratori di questo Paese. Grazie.